Scusa, sono sempre breve queste dichiarazioni. L'altro giorno proprio, ma prima che finisse in buoni questa indicazione, la Costituzione e la Fondazione, leggevo l'un discorso di De Gasperi del novembre del 46, dicembre del 46 quando inaugurò la scala di un'acqua di costruita dopo la distruzione di bombardamento della della Milano. Ebbene, De Gasperi in quell'occasione disse che l'Italia è Romina, sono stati stati tutti i ponti, edifici pubblici, scuole, case, abitazioni, però ripartiamo dalla scala perché la scala è il simbolo dell'attitudine italiana, è solo attraverso questa dove possiamo creare la ricostruzione di tutto il Paese. Quindi il Paese, la Nazione Italia, deve avere la coscienza di questa nostra identità perché soltanto così possiamo partire. un po', perché poi avere cittadini appassionati, animati, uno spirito di cultura, significativamente un ruolo di cittadinanza di tutto il resto, quindi quello che ha detto come di Pesina, la cultura serve per promuovere tutto il resto. Quindi con questo spirito che noi iniziamo a noi. Grazie. Grazie.